Buongiorno, sono Massimiliano Mondazzi, il founder della Democonsulting, che è un ente accreditato presso la regione Abruzzo, specializzata da oltre 20 anni nella gestione di progetti finanziati sia da enti pubblici che da enti privati. Nell'ambito del progetto Stella Maris Lab il ruolo della Democonsulting è quello di sostenere lo sviluppo di nuove competenze nell'ambito dei processi di innovazione legati fortemente allo sviluppo del territorio della regione Abruzzo. Il nostro contributo è quello di potenziare le competenze dei destinatari, orientarli all'inserimento e all'accompagnamento verso un nuovo paradigma che li veda pian piano emergere da quelle che sono le varie esclusioni di carattere sociale che permetta loro, legati soprattutto ai giovani under 25, che presentano particolari caratteristiche di esclusione sociale o di svantaggio o di povertà. Collaborare al progetto Stella Maris significa per noi rispondere a quelli che sono nuovi bisogni e nuovi paradigmi legati ad aziende e ad imprese che sul territorio non si preoccupano solo ed esclusivamente di portare avanti lo sviluppo del proprio fatturato, del proprio business, ma anche quello di svolgere un ruolo prettamente etico e sociale, come credo oggi giorno debba fare ogni nuova realtà che si rispetti. Vi ringrazio e auguro a tutti buon lavoro.